E adesso pubblicità! Tante news stuzzicanti che fan gola a tutti quanti, falsi miti già asfatati e gli euristi vedrai asfaltati o proposte, anche di legge, che vanno via come scherzi. Un facile corso di economia base è proprio quello che ci piace. Tante cose, queste e quelle su Economia 5 Stelle. Provalo anche tu! Economia 5 Stelle! E adesso vai con la sigla! Grazie a tutti!